La radio. La radio ha una storia veramente meravigliosa. Una storia che non sono mai riuscito a raccontarvi qua appunto in Parlo in Radio. Ci siamo sempre soffermati sui tecnicismi, sulle strumentazioni, sui software, ma mai ho avuto l'occasione e l'onore di potervi parlare della storia di questa radio. Cari amici, se dovesse piacervi questo nuovo format che mi è venuto in mente per Parlo in Radio, Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che magari vi porto qualche altra storia. Non so come è nato il videoclip, ad esempio. Potremo parlarne prossimamente. Già, ma come mi è venuto in mente di portare un podcast in cui racconto di radio, in cui parlo di radio, parlo della storia di questo mezzo? Beh, perché io sono uno studente di comunicazione, al di là di speaker, radiofonico, eccetera. Studio comunicazione e studio questi mezzi, oltre alla radio, studio anche televisione, eccetera. Ma questa, in particolare, mi ha colpito molto, perché pensate, verso la fine del ventesimo secolo, sono state inventate due importanti tecnologie all'interno del suono. Il telefono, che è stato inventato da Bell nel 1876, pensate, trasmetteva il suono appunto in diretta e permetteva la comunicazione tra due persone completamente distanti. Un po' ciò che avviene nella radio senza il ritorno dell'altra persona, no? La registrazione, pensate, meccanica, che è stata inventata da Edison poi nel 1877, univa questi aspetti, o meglio, il telefono univa questi aspetti. La memorizzazione di un istante, la sua conservazione e la sua riproduzione, il tutto in pochissimo tempo. Era in grado di stabilire un rapporto con l'ascoltatore. Il telefono era un mezzo di scambio istantaneo ed efimero, mentre la registrazione meccanica era il mezzo di conservazione e di diffusione indifferita. Venne presentato a Parigi nel 1881 il teatrofon, strumento che permetteva di conservare ciò che la registrazione meccanica non poteva raggiungere. La forza dell'interpretazione in diretta, la presenza dell'uditorio, erano due particolarità importantissime all'interno di questo strumento. L'opera veniva fatta ascoltare, ma anche presentata nel suo modo abituale, in pubblico. Tutte queste nuove invenzioni del suono meccanizzato ed elettrificato hanno creato una nuova qualità del sonoro. Vibrazioni acustiche tradotte in tracce solide e variazioni di stati elettrici o magnetici. Anche attraverso la scrittura musicale ottocentesca è stata possibile la composizione di melodie più complesse. La rappresentazione delle informazioni è cambiata negli anni e con l'avvento delle prime tecnologie del suono era possibile un cambiamento di stato del suono, che diventava una rappresentazione fisica o elettroacustica. Questo sta alla base di quella che è la radio. La radio che, come ben sappiamo, come ben forse saprete tutti quanti, effettua la prima trasmissione radiofonica ufficiale il 30 maggio del 1924, grazie a Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, inventore della radio, ma anche il primo protagonista del mezzo che è andato ad utilizzare. Approdiamo quindi, dopo la prima trasmissione di Guglielmo Marconi, al 1925, con l'invenzione dell'altoparlante. Con questa invenzione si impose anche la radio soprattutto nel campo dell'arte. In Germania prese piede il futurismo russo, avente come strumento principale proprio la radio, con un utilizzo provocatorio portatrice di un'estetica mondiale che ha la capacità di attirare lo spirito umano attraverso la sua meccanicizzazione. In generale, la tecnica collaborò soprattutto a partire dai primi anni del 1900 alla creazione di opere d'arte. Pensate, la tecnica, tecnologia, diventerà il perno fondamentale anche nella musica russa, che dovrà aderire a queste tendenze. Ed eccovi in pillole spiegata come è nata la radio, quali sono i fattori che hanno portato alla sua creazione. L'avreste mai detto voi che la radio nasce dal telefono? Beh, forse no. Diciamo che il telefono è completamente distante dal mezzo radiofonico a cui tutti noi siamo abituati oggigiorno. E soprattutto, sì, troviamo molto telefono all'interno delle nostre radio, ma per parlare con gli ascoltatori. Mai ci saremmo immaginati che fosse il telefono il padre della radio. Questo è quello che dovevo dirvi oggi, cari amici. Ho in mente tantissime altre cose in una serie di questo tipo, che magari potrei portarvi una volta al mese. Fatemi sapere se può piacervi. Ho ancora tantissime cose di cui voglio parlarvi. Vorrei parlarvi della storia del jingle, della storia della pubblicità, della storia della musica all'interno della pubblicità, della storia dei videoclip. Insomma, la lista è davvero lunga. Se può piacervi un podcast di questo tipo, fatemelo sapere con un mi piace o con un bel commento. Io leggo tutto e rispondo a tutti. Per il momento è tutto. E questo parlo in radio sperimentale termina qua. Io vi aspetto sui miei canali Instagram at omegaradio at ilpodcast e vi rimando a lunedì prossimo, sempre alle ore, 15.30. Ciao. Grazie. 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 Grazie.